Godetevi questo breve video sul Bucano Etna e con la mia cover. Il video inizia fa 35 secondi. Grazie. Ciao a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Dallottoidea. Oggi vi voglio farvi vedere una cosa strana che ho trovato dove dipongono le uova le galline. Guardate che uovo ho trovato. Un uovo strano mai visto. L'ho visto sì piccolino così come le uova queste qua più piccoline ma allungato così. No guardate. Guardate che cosa strana. E' un uovo allungato. Guardate è un uovo allungato. Io non lo so che l'ha fatto. Queste sono le uova. Ora ve le faccio vetare meglio. Queste due. Ora ne fanno di meno le uova. Ne fanno due, tre aggiorni. Di tutte queste galline che ho qua io. La maggior parte sono ancora piccoline. Ma penso tra due mesi in primavera diciamo cominciano a deporre le uova. Queste sono quelle più vecchie. Queste qua. Quelli sono più giovani. Va bene. Detto questo. Guardate che cosa strana. Sono dentro il pollaio. Io ora ho visto questo. Questo uovo. Guardate. E' lungo subito giù come un uovo normale. Però è secco così. Guardate. Guardate che uovo strano. Non lo so se di dentro c'è l'albume o c'è il tuollo. Non lo so se è completo. Questo non lo so. Guardate che uovo strano. Un uovo lungo. Questo qua. Mai ho visto un uovo così. Così lungo. Mai ho visto un uovo così. Rotondo piccolino. Il piccolino di questo. Così piccolino di piccolino. Lì. L'ho visto. Che a volte le fanno. Però. Ma così lungo. Non ho mai visto. Va bene. Detto questo. Prendo questi tre uova. E questo qua lo botto. Poi stasera mi faccio una frittata. Una frittata. Un cucchiaino di frittata. Va bene. Ora esco un pochettino fuori. Ma esco di qua. Le galline stanno mangiando. Va bene. Ti raccomando. Fate uova. Fate uova. Oggi c'è. C'è stata una bellissima giornata. C'è un pochettino di sole. Le galline stanno mangiando. Guardate allora che strano questo uovo. Un uovo lungo mai visto. Questa è la prima volta che vedo un uovo così. Questa forma di uovo diciamo così. Ora non lo so se 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 l'ha fatto fosse dopo dopo di qualche uovo così o se no ha fatto già direttamente questo qua non lo so. Vediamo se si è fermato così. Va bene. E niente. Io ho fatto questo video perché ho voluto fare questo video per questo uovo strano diciamo. Non lo so se se alcuni di voi che vi state vedendo questo video vi è capitato mai un uovo così strano. Diciamo questo piccolo uovo. Uovo mal formato diciamo. qua perché non lo so se dentro del formato è completo sia di tuollo e di abume. Va bene. Lì ci sono le galline che stanno mangiando. Chi l'ha fatto questo qua? Chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto questo? Nessuno risponde. Va bene. Avanti. Oggi ne abbiamo uno di dicembre del 2020. E niente. Ho voluto condividere con voi questa. Questo uovo strano diciamo. L'uno dicembre è entrato diciamo del 2020 è entrato con questa novità di uovo allungato strano. Va bene. Io con questa panoramica vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Che ho fatto in particolare questo video l'ho fatto per questo uovo che è nato. Sa che lì mi stavo guardando l'uovo. Che è nato così. E niente. Se il video vi piace mettete mi piace. Condividete. Commentate. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi. E niente. Un abbraccio a tutti da Giovanni e da Lottoidea. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. A prossimo video.